Pensate un po' che addirittura lo stesso boccaccio nel Decamerone ci parla del famoso, ormai universale, cipollotto rosso di Certaldo. Noi abbiamo mandato la nostra Cristina Tassinari proprio a vedere come viene prodotto, e cioè coltivato, raccolto, pulito e commercializzato. Grazie a questo servizio la cui regia è di Carla Lombardi. Guardiamolo. Oggi mi trovo a Certaldo ed insieme andremo a conoscere più da vicino la coltivazione della cipolla. Lo facciamo insieme alla signora Luigina D'Ercole. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto qual è il periodo di semina della cipolla? Allora, il periodo di semina della cipolla, come questa che abbiamo oggi, che è una cipolla, che è un cipollotto, una cipolla fresca, sono diversi periodi. Si va dal settembre, poi a cadenza di due o tre mesi, praticamente c'è una semina tutto l'anno, con una raccolta quasi annuale. Quindi una volta seminate, quanto tempo intercorre dopo che vengono raccolte? Allora, noi le seminiamo in Deplafon come piantina per piantina, e poi dopo circa due mesi queste piantine vengono strapiantate e piantate in campo, aperto, e dopo circa tre o quattro mesi vengono raccolte. Qual è l'ABC per una buona coltivazione? Allora, l'ABC di una buona coltivazione è avere un terreno sabbioso e fertile, concimato con concimi organici, e ha bisogno di tanta acqua, come cipolla, e anche di una buona zappatura, perché queste cipolle richiedono proprio di essere zappate. Una volta raccolte, come vengono trattate le cipolle? Una volta raccolte le portiamo nella nostra stanza di confezionamento, le puliamo, le laviamo, le confezioniamo con le tichette, quindi facciamo dei mazzetti, e poi le confezioniamo nelle cassette e smerciamo nei nostri negozi. La cipolla forse è la pianta d'orto più coltivata in Italia, sia per le sue qualità organolettiche, sia per la presenza molto elevata di sali e vitamine. La cipolla forse è la pianta d'orto più coltivata,